Buonasera, c'è un problema all'audio, vai Francesco Allora, buonasera, buonasera a tutti, fine primo tempo, una zero per il Napoli, una buona serata, la chiamo Roberto Reali, una buona serata a famosio Pardovini, ciao ragazzi, dico la mia, poi andate voi, allora premesso che la Roma i primi cinque minuti l'ha giocati alla grande e ci hanno fermato su un'azione eh in destra segna, no? Perché lì Mkhitaryan va in porta e c'è Petro al al centro, lì andiamo uno a zero e e e poi è un'altra partita. Ehm non mi sta piacendo nulla dall'arbitraggio a quello che stanno facendo i giocatori del Napoli e quello che stiamo facendo noi. Anche se noi secondo me ci hanno fatta la macumba. Stasera c'è qualcosa che non mi quadra. O ci hanno drogati o ci hanno fatta la macumba perché i giocatori della Roma cascano da su. Non mi sta piacendo nulla dall'arbitraggio chi c'ha alto il volume ragazzi perché io sento il mio ritorno. Quindi ecco perfetto. Ehm quindi non so se se sei d'accordo o meno. Per me qualcuno ci ha fatta la macumba stasera perché ehm e poi non so eh adesso con tutto il bene ma eh nei tabelloni dello stadio no? La 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 foto di Maratona deve rimanere tutta la partita sia davanti che dietro cioè c'è deve essere quell'immagine a a vedere la partita tutti e 90 minuti perché insomma non mi sembra che a Roma ha lasciato Gigi Proietti 90 minuti su 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 sui monitor no? Hanno fatto vedere la partita eh allo stadio olimpico insomma stasera c'è deve essere Maratona tutti i 90 minuti? Eh beh perché probabilmente pensano che ci sia un'influenza dall'alto da parte di Diego perché poi per quanto riguarda il il risultato c'è quel tabellone lineare sulla tribuna di fronte alle panchine che dice che il risultato eh dà l'esito del risultato 1 a 0 comunque sì effettivamente qualche cosa di strano c'è perché io non ho mai visto un 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 sunto di errori di Petro e Bighitarian sia a livello di passaggi che sia a livello addirittura di stop e quindi c'è qualche cosa che 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 lo quadra non sembrano che essere loro poi mettici il il la munizione di Banez l'infortunio di Mancini adesso devono verificare le condizioni di di veretù boh sembra essere nata sotto una cattiva stella questa partita che dici Fabrizio? Magumba ci hanno fatto la Magumba c'è niente da fare andiamo da uno stregone vediamo se ci riusciamo cacciamo cacciamo le stregonerie che ci hanno fatto questa serata ma io penso io penso che Francesco che eh dobbiamo ricordare così eh scaramanticamente che la Roma ha perso giusto l'ultima volta a Napoli questo lo dobbiamo sempre dire quindi per per hanno a cosa della scaramanzia e che fino a l'ha portato bene lo ribadiamo e a prescindere da quello secondo me se non vanno le cose a parte l'abitaggio sono perfettamente d'accordo non mi è piaciuto neanche a me ma se non vanno bene le cose secondo me dipende molto da dalla testa dall'aspetto psicologico che probabilmente vuoi come dite voi per lo striscione vuoi per il clima che comunque la Roma ha trovato in quel di Napoli secondo me la Roma gioca meno tranquilla del solito e soprattutto c'ha meno coraggio eh gioca meno alta eh in anticipo di quello che fa del solito ha lasciato un po' troppo giocare in Napoli soprattutto tra le linee secondo me cosa che l'abbiamo pagata perché poi ecco c'erano giocatori abili eh in questa quella quella posizione di gioco del campo come Insigne che eh comunque ha creato qualche pericolo specialmente dalla parte di Mancini eh sul gol sul gol credo che molta ci siano molta responsabilità del portiere perché prendere la parte prendere gol dal palo tuo eh non è bello non è bello anche se il tiro è stato tagliato bene tutto vuoi tutto insomma però secondo me qualche colpa c'è l'abbinante però eh ovviamente non gli possiamo dare una colpa una croce insomma però mi spieghi mi spiegate una cosa allora dopo cinque minuti la Roma va in porta e viene fiscato fuori gioco inesistente a Mkhitaryan no? E si va contro il regolamento perché il regolamento ci siamo incazzati tante volte no? Certo. Previste che l'azione deve essere finita poi quando finisce l'azione alzi e controlli perché se poi lì c'è un errore no? Come in questo caso c'è un errore praticamente se tu annulli il gol il gol col bar lo lo dai lo dai a vantaggio. Eh invece viene fermato subito il gioco all'ultimo minuto Mertens parte in controviete in fuori gioco lo mandano in porta dopo che para Mirante alzano la bandierina e fischiano allora eh non va bene non va bene cioè questo è un certo un clamoroso errore contro la tecnico tecnico dell'arbitro perché tu dopo cinque minuti non fermi Mkhitaryan tu lo mandi in porta poi se è fuori gioco fischi il VAR tutto quello che parte se invece c'è un errore è fatta apposta sta regola perché se c'è dovesse essere un errore perché il fischio dell'arbitro è sbagliato tu col VAR lo rivedi e concedi il gol allora dovete spiegare perché è stato fermato Mkhitaryan a centrocampo con Mkhitaryan da solo e Pedro da solo al centro e perché è stato lanciato un porta Mertens a fine perché spiegatemelo perché non non so dare una giustificazione a sto a a questo fischio arbitrale come non so dare una giustificazione all'ammunizione di Banez sul sul calcio di punizione che porta al gol di di Insigne il fallo c'è sicuramente c'è ma il primo fallo di Banez allora ogni fallo è un'ammunizione va bene arbitriamo così ogni fischio è un'ammunizione io non penso che ogni fischio sia un'ammunizione ogni fischio si vede se il cartellino è giallo se c'è o non c'è il cartellino ad Arius addirittura può essere russo ma già sarà già sarà lamentato prima per cui quasi sembrava quasi una sorta di compensazione di altri di altri falli insomma vabbè comunque tira l'aria strana anche a livello anche a livello di di eh televisione di trasmissione televisiva eh sinceramente grande maratona però sinceramente adesso ce l'ho stata a fare un po' a peperini nel senso che c'è la partita giochiamo la partita parliamo della partita sempre e poi dopo si si faranno gli elogi e i ricordi di questo immenso campione adesso la partita va giocata ma anche la la televisione stessa lo sta facendo non sta mettendo un clima diciamo eh paritetico Robertino che dici? Allora io d'accordo con voi e la cosa con la tua anche io è che la nuova è troppo moglie cioè non le seconde parte sono sempre loro che le prendono beh effettivamente diciamo sta soffrendo molto sto pressing alto dei dei napoletani e sembra quasi un po' impaurita comunque salutiamo i nostri amici che ci seguono Daniela ciao Daniela sempre presente ciao un po' critico Antonello eh per le indecente ma sarei un po' più morbido del giudizio però eh la tua opinione ansia di Daniela giustamente eh Giancarlo Mercia ciao buonasera primo tempo a dimenticare Emilante ottima stagione ma questo gol non poteva prenderlo era sul suo palo comunque bisogna sfigliarsi perché siamo letteralmente sottomessi è vero la sensazione è quella un saluto a Raffaele Ferro buonasera a te carissimo poi eh abbiamo ancora eh perso un po' di 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 messaggi quanti sono mamma mia quanti sono allora eh Daniela e Bellanti una Roma un po' spenta soprattutto per via di un Napoli che sta giocando con contelli in mezzo ai denti meritando il vantaggio oh ciao Eva sì in guarda siamo d'accordo ma Similiano Pacifici non siamo scesi in campo Raffaele Ferro se non ti l'importa non segni però basta che l'importa ci fanno arrivare come ci stava provando Michi Tariana poi Dando di Cristofano c'è il fantasma di Maradona eh Pino Stella siamo irriconoscibili ciao Antoine da da Atene buonasera a tutti a Gerova non tiene palla e non c'è il gioco se non cambia qualcosa difficilmente otterremo un risultato utile ancora Massimiliano Pacifici troppi giocatori fuori forma e poi Bellagrini non puoi giocare a pallone beh mi sembra un po' esagerato questo Daniele Bellanti più che l'errore di Milante tende a sottolineare il gran golo di Insigna che da posizione così definata ha tirato fuori un tiro capolavoro il grande mister Claudio Durisse un grande massimiliano eh sono d'accordo ancora Pino Stella sono scusanti che non pagano non abbiamo alibi Antonio Cucca primo tempo non giocato ancora Giancarlo Mercia sicuramente Daniele ma da quella posizione non puoi prendere un gol a mezza altezza sul tuo palo questo è riferimento al messaggio di prima di Daniele Bellanti poi ancora Nando De Grifo ha giocato dieci minuti poi Daniele Bellanti dopo sei risultati utili costitutivi ci può stare una fase di stallo vedi anche io ma confidiamo nella ripresa poi un saluto a Stefano Socci con quattro uomini in barriere non prendi mai gol non ho capito perché avevamo solo due uomini in barriere in una partita con un ritmo molto basso noi siamo stati nulli zero corsa zero idee speriamo nel secondo tempo ancora Raffaele ci dice a prescindere le partite precedenti di un'inizio campionato che serviva il centrocampista di qualità ed un altro difensore per esempio Izzo che poi a gennaio eh che poi a gennaio di puntare sull'esterno sinistro tutto tutto questo l'hai detto tempo fa bene l'hai detto poi Giancarlo Mercia comunque spero che siano resi conto della prestazione disastrosa e che ora scendiamo in campo con due va bene attributi così Domenico Minas la Roma più brutta della stagione siamo sotto solo di 1 a 0 Nando di Cristofalo stiamo senza difesa Daniele Bellanti Giancarlo la posizione di Milanti discutibile io pure ho pensato che si aspettasse Tire stava più centrale per gestire la posizione sul cross poi un saluto a Francesco Mannella secondo me ce l'abbiamo fatto credi secondo me ce abbiamo fatto fatti credi adesso gli famo bravo così mi piace Francesco Rita Santari dell'Urissi Sky merito il mio disprezzo e ora metto il buto grande ma ora basta brava Rita brava tu saluta Rita allora Rita Rita ha toccato quello che è l'argomento che abbiamo sempre fatto allora i tifosi da Roma pagano Sky come lo pagano gli altri e meritano di avere anche loro un giocatore della Roma che possa fare la seconda voce perché io mi sono rotto le scatole l'abbiamo detto anche altre volte a Milano a Napoli in altre occasioni eh no Napoli Napoli era oggi eh Milano Milano a Genova che era da Zon a Milano che era Sky eh di sentì i vari eh marcheggiani eh di canio nel dopo partita eh tutti sti laziali eh o interisti o milanisti perché so solo loro Bergomi eh Adani no Dicanio Marcheggiani mi sono rotto le scatole entra a Milano che si stia riscaldando siccome la Roma paga siccome la Roma paga i tifosi della Roma pagano l'abbonamento è giusto che ce venga messo perché abbiamo pure noi giocatori no Danela Giannini a quanti ce ne quanti ne potete trovare a Roma Panucci quanti ne potete trovare e mi sono rotto le scatole e avete sempre le stesse sempre le stesse situazioni e facce poi come ha detto prima Marco mi mi sembra che c'ha stata e stasera fa troppo a peperini con sta situazione perché e non è la prima volta che succede no quindi eh il tifoso della Roma paga Sky paga da Zon vuole vedere la Roma vuole diffare la Roma lo vuole fare tenendo il volume alto non come ha detto Rita che giustamente ha ragione bisogna abbassarlo perché veramente so inascoltabile inascoltabile compresi quelli che fanno finta di essere da Roma o che te dicono che sono da Roma no perché poi c'è il giornalisti che ti dicono ah io so da Roma quelli che che prima lavoravano nell'etere romano e che mo sono passati a Sky giovani o anziani che siano mo sono diventati tutti anti romanisti no poi tu li senti ah ma io so da Roma ah ma io quell'altro piccoletto che diceva Mialovic il marito che se ne va a giacca che se ne va a giacca lì pure quello no era tifoso da Roma sempre detto che è tifoso da Roma però mi risulta che poi quando si parla insomma eh sta Roma non è che ne parla proprio un gran bene e così altri ragazzi che magari sono passati nel nel lettere romano qualcuno conosciamo pure noi con Robertino pure e poi vanno a fare cronache e fanno l'anti romanisti come è successo a Mila Roma tanto per dirne una no quindi sì veramente iniziate a fare i professionisti come vada fatta come va fatto il professionista e iniziate soprattutto a avere rispetto per i tifosi da Roma che pagano come pagano gli altri l'abbonamento se no allora regalatecelo l'abbonamento e poi fate com'è ce lo regalate non ce lo fate pagare allora eh stanno entrando in campo i giocatori Villar sicuramente prenderà il posto di Veneto e ci salutiamo col messaggio di Massimiliano Facifici dai il secondo tempo c'è un'altra musica forza Roma bravo Massimiliano come era l'Aino Banfi? Aio Aio Pricorno? Aio Frottaio? Va bene allora ci vediamo a fine partita Dai Roma! Ciao ragazzi!